E ciao a tutti ragazzi e bentornati su Geometry Dash Oggi facciamo Hahahaha Insane Map Che è un livello che Stavo creato da un autore che si chiama Hahahaha Che non so che cazzo c'ha da ridere Che ha fatto la Normal Map L'Insane Map No, la Easy Map La Normal Map e la Insane Map Sinceramente ragazzi Dovevo fare la Ice Cave Che era un livello di Non mi ricordo chi Più vecchio di questo Ma non l'ho voluto fare Perché è un livello brutto E troppo vecchio Cioè nel senso Va bene fare i livelli vecchi Ma che siano al massimo della 1.7 Ice Cave invece è stato uno dei fermissimissimissimi Demon rilasciati E quindi preferirei di no Comunque buttiamoci dentro questo livello E buona visione Ok ragazzi Avrò dei problemi In realtà non lo so Quanti problemi posso avere con questo livello Però vediamo un po' No 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 94 No 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Però, vabbè, easy daemon sì perché sono stato coglione io perché alla fine mi sono cento parata a tre tentativi, sono così tanti per finire la prima volta, non mi ricordavo. Vabbè, ragazzi, direi che per questo video è tutto, vi ringrazio per avervi visto e ciò per il prossimo episodio dove faremo Blender. E niente, io vi saluto, lasciate un mi piace, commento come vi vedete e iscrivetevi e ciao a tutti.